Con noi Stefano Muroni, attore che conosciamo per le tante attività che ha svolto in questi ultimi anni. Domani ricorre il giorno della memoria e tra le varie iniziative hai portato avanti diverse attività in questi ultimi tempi. Partirei da quello che è successo oggi pomeriggio a Porto Maggiore. Oggi siamo stati invitati dall'amministrazione comunale di Porto Maggiore alla biblioteca Pepino Impastato per presentare alla cittadinanza, agli appassionati e curiosi, l'ultimo grido che è la webserie che ha prodotto l'Enciclopiglia Treccani l'anno scorso, che è uscita per gli 80 anni dalle leggi razziali scritta, diretta, voluta, pensata da Giuseppe Muroni, che è mio fratello maestorico, insegnante, collaboratore di Treccani e poi ci sono stato anch'io perché sono uno degli attori protagonisti assieme a Monica Guerritore, Francesco Montanari e Franceschi Naudi. È andata molto bene e poi dopo la presentazione della webserie abbiamo anche inaugurato il Teatro Concordia che a pochi passi dalla biblioteca la mostra sul film dedicato a Don Giovanni Minzoni, il film si chiama Oltre la bufera, sono 20 scatti di Beatrice Bianchi. Perché al Teatro Concordia? Perché in quel teatro abbiamo girato alcune scene del film su Don Minzoni e in qualche modo il ricreatorio di Don Minzoni. Questa sera però un altro appuntamento, anzi questo ancora più importante, appunto si arriva in Rai direttamente tra l'altro con un messaggio molto forte, quello di comunicare a tutti, quindi anche ai più giovani, quello che sono state le conseguenze delle leggi razziali e dell'olocausto. Sì, questa sera alle 23.30 su Re 2 ci sarà un bellissimo documentario che si chiama appunto La Forza della Memoria, completamente dedicato a Primo Levi. È un documentario corale dove ci saranno tanti protagonisti che parleranno sia dell'opera di Primo Levi ma anche di quanto sia importante oggi fare memoria attraverso anche le nuove tecnologie. Uno dei protagonisti di questo documentario è infatti mio fratello che parla di come il web possa aiutare a fare memoria anche alle nuove generazioni. Io sarò uno dei protagonisti che leggerò alcune poesie, alcuni brani di Primo Levi, ci sarà anche Liliana Segre, senatrice a vita e molti altri ospiti italiani e anche ferraresi. Perché mi piace dire che questo documentario in qualche modo indirettamente e involontariamente anche da parte della RAI vuole essere anche un omaggio a quell'Emilia che non dimentica perché è stato girato anche tra Ferrara e Modena. Saremo al Museo del Deportato di Carpi, siamo al Museo di Nonantola, siamo al Campo di Smistamento di Fossoli e siamo anche a Ferrara.